Le sedi decentrate del garante dell'infanzia e dell'adolescenza delle città di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno non potranno essere attivate, causa l'inadempienza delle amministrazioni. Comincia così il comunicato a firma di Cesare Romano, garante per l'infanzia e l'adolescenza, che aggiunge avrei voluto essere più presente sui territori, offrire più servizi ai cittadini, tentare un coordinamento dei comuni al fine di promuovere azioni omogenee sul territorio, ma non mi è stato possibile. Dopo aver siglato protocolli d'intesa, nel quale si prevedeva la collaborazione dell'amministrazione nel mettere a disposizione una sede attrezzata e un minimo di contributo annuale per le spese generali e per i rimborsi ai due volontari, dopo due anni di attesa e numerosi solleciti, nessuno ha onorato gli impegni. Evidentemente la tutela dei diritti delle persone di minore età trova scarso impegno e molta indifferenza, conclude così la nota del garante per l'infanzia. E tutto questo succede a pochi giorni di distanza dalla presentazione del report sugli abusi e gli incesti intrafamiliari, che ha messo in evidenza una situazione allarmante per l'intera regione campagna. Un appuntamento durante il quale è stata sottolineata con forza la necessità di fare prevenzione, tenendo alta l'attenzione su tutto il territorio. Un messaggio chiaramente sottovalutato dai comuni capoluogo.